...in genero di tabelletto del tronco, nella traduzione del tronco di Mancellano. Sì, è stata una cosa interessantissima, io sono felicissimo, devo dire, anche alle note, perché sono emerse veramente dalle relazioni, perché un po' che mi sono mancato, ho perso sicuramente una cosa molto importante, però in quel contesto sono andato a saltare i 15 cavalieri che passavano qui a Giovoiano con i cavalli, perché i miei amici mi hanno voluto con forza con loro per fare una cosa, e mi hanno un po' rinforzato, perché c'è un po' rinforzato, e quindi sicuramente dal punto di vista della nostra amministrazione, saremo sempre presenti per qualsiasi iniziativa che dovrà nascere, che sicuramente faremo nascere insieme appunto a qualche... qualcuno, come vi ho detto prima, ha ringraziato il Giovin, l'operatore che sta a Fiat di Gioviniano, perché ha avuto ultimamente degli impegni un po' rinforzato, perché anche, come già detto, è un merito suo insieme, abbiamo iniziato questo processo della scorsa. Bene, chiudo qui perché, ovviamente, dovrei rinforzare con il senso di... abbiamo un brindis offerto da un'azienda Varnelli, quindi faremo un brindis tutti insieme alla... la Sinegine, al Consorzio, quindi provinciale, che è la nostra fortissima rinforzata, meravigliosa santa. Grazie. Grazie.